In questa bottiglia ci sono migliaia di granelli di sabbia che qualcuno ha preso dalle spiagge di questa terra per portarsi a casa un pezzo di Sardegna come souvenir. Geppi Cucciari scende nuovamente in campo per la difesa del patrimonio ambientale sardo e delle scorse ore il lancio del nuovo spot promosso dalla Geasar, la società di gestione dell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia contro i furti di sabbia sulle spiagge. Madrina d'eccezione sullo sfondo dell'isola di Tavolara proprio l'attrice. Comica e Shogherni Macomare che interpretando la zia della giovane Sofia lancia un messaggio contro i turisti predatori dei beni più preziosi dell'isola quelli ambientali. Si può racchiudere il mare in una bottiglia si domanda in apertura del video la Cucciari per poi aggiungere qui dentro ci sono migliaia di granelli di sabbia che qualcuno ha preso dalla spiaggia di questa terra per portarsi a casa un pezzo di Sardegna come souvenir. Geppi fa riferimento al progetto Riportami al mare grazie al quale 6 tonnellate di sabbia, pietre, rocce e conchiglie sequestrate in 5 anni ai predatori delle risorse naturali della Sardegna travestiti da turisti nell'aeroporto di Olbia sono state restituiti al mare a largo di Tavolara. Si tratta del risultato della seconda edizione del progetto presentato lo scorso 31 maggio nella piazzetta Gramsci di Porto San Paolo proprio davanti all'isola di Tavolara iniziativa nata nel 2019 grazie a un protocollo d'intesa tra GEASAR, il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Tavolara a Punta Coda Cavallo l'EMAC, la Forestale e l'Assessorato Regionale all'Ambiente con l'obiettivo di coordinare gli sforzi per tutelare e ripristinare i vittorali. Ogni anno, precisa la Cucciari l'aeroporto di Olbia sequestra una tonnellata di sabbia lanciando poi un invito ironico ai turisti Volete un ricordo della Sardegna? Portatevi a casa un vermentino, un pecorino, un bagnino di Olbia Importante l'azione sinergica per la realizzazione del filmato con il contributo del Ministero dell'Ambiente insieme all'Area Marina Protetta di Tavolara al Corpo Forestale, ENAC, Regione Sardegna e Keep Green Volete un ricordo della Sardegna? Portatevi a casa un vermentino, un pecorino, un bagnino di Olbia Io l'ho fatto, mi sono trovata benissimo Grazie a tutti